Quando parliamo di tattica, noi allenatori di calcio siamo abituati a parlare di qualcosa di predeterminato, qualcosa di fisso che noi in qualche modo imponiamo ad altri. Qui invece parliamo di tattica come di scelta, parliamo di tattica come un insieme di decisioni. Questa è la rubrica di tattica di cambio di campo. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Allora, se sentite cigolare, il rumore della mia lingua che sicuramente è un po' roggenita, perché è da due mesi che non vi parlo da solo. Infatti oggi non ho ospiti. Abbiamo dato uno stop agli ospiti, che ovviamente continueranno settimana prossima, perché volevo parlarvi di qualcosa di importante, o meglio, che ritengo importante, quantomeno è un misunderstanding che sento da settimane e da mesi, e che in qualche modo speravo di poter dare una mia visione, un punto di vista, che però è quello di tanti, non sarà niente di eccezionale. Come avete detto sicuramente dal titolo di questo episodio, parliamo di terzo uomo. E perché ho sentito la necessità di parlarvi di questo argomento, che ormai è un po' sulla bocca di tutti, in maniera secondo me corretta, visto che è uno strumento nel calcio che a livello tattico è molto molto importante. Ne ho sentito la necessità perché ormai più volte ho sentito da alcuni allenatori che non è ben chiaro il concetto di terzo uomo, non è neanche ben chiara così tanto l'utilità, sembra quasi una sorta di moda da allenare, almeno per alcuni, ma come tutto io, insomma, mi distacco un po' da queste mode, mi distacco un po' da queste idee che cavalcano le onde del tempo, ecco, e invece credo che ci sia qualcosa di molto molto più importante di cui parlare. Allora, voglio cominciare a dirvi che cosa non è il terzo uomo. Il terzo uomo non è un uomo utile in uno spazio, cioè non è qualcosa di generico, non è un concetto così di utilità, di un uomo che mi consente di fare qualcosa di utile alla squadra, perché quello è tutti gli uomini, potenzialmente, nel campo, nel momento in cui giocano sono utili alla squadra, nel momento in cui hanno un qualsiasi atteggiamento, o almeno sperano di essere utili, perché altrimenti credo che non siano neanche considerabili come uomini, come giocatori attivi in quel momento del gioco. Non è quindi un uomo che va ad occupare uno spazio che è stato neanche liberato da qualcun altro. Cioè, il cosiddetto vado libero uno spazio, quindi libero per occupare, non è questo il concetto di terzo uomo. Il concetto di terzo uomo è qualcos'altro. E cos'altro non è? C'è un'altra definizione che mi stride sempre un po' strana. Il terzo uomo non è il destinatario del terzo passaggio, ok? Il terzo uomo, invece, è quella persona che facilita la possibilità di arrivare a un secondo uomo attraverso un passaggio ulteriore. Vi faccio un esempio. Immaginiamo che il nostro portiere abbia la palla e che voglia, in qualche modo, per qualsiasi motivo, arrivare al terzino. Un attaccante, tuttavia, ostruisce la linea di passaggio e quindi il portiere non può arrivare al terzino se non con una palla alta e potenzialmente lenta, quindi intercettabile. Allora, che cosa può succedere? Può arrivare una terza persona, appunto, il terzo uomo, ad esempio un mediano, una mezza, a cui il portiere dà palla e quindi ha in appoggio o a sostegno questo mediano o mezza, gioca, di conseguenza, la palla al terzino. Ed ecco che siamo arrivati al terzino, che era il nostro obiettivo, meglio, l'obiettivo del portiere. Questa è una situazione, una dinamica, in cui il terzo uomo ha un'utilità specifica per arrivare in un'ampiezza. Tuttavia, diciamo che non è l'unica soluzione, no? Immaginate che il terzo uomo, a questo punto, possa essere estendibile come concetto a tutto l'arco di campo e a tutte le necessità che il campo e il gioco richiede. E allora, perché è utile? Ecco, sicuramente, e mi sento di dire che la prima utilità del terzo uomo è quella di conquistare campo. In avanti, come si intende, verso una profondità. Che non vuol dire andare a attaccare per forza la profondità, ma avvicinarsi alla porta avversaria, no? Che è uno dei, come dire, fondamenti alla fine del gioco del calcio, perché tendenzialmente bisogna avvicinarsi per fare gol. Quindi, l'utilità del terzo uomo in primis è, secondo me, è questa qui. Cioè, il fatto che una persona terza alla manovra diretta, a un passaggio diretto, possa aiutarti per scavalcare linee di pressione. Ed è per questo che tante volte il terzo uomo viene usato vicino a una linea di pressione o vicino a... o addirittura è un uomo marcato da qualche persona, perché con un appoggio o una giocata a sostegno può andare a far conquistare spazio a qualcun altro. Inoltre, mi sento di dirvi che comunque è una possibilità per cercare uomini liberi in ampiezza. E perché parlo di uomini liberi? Ecco, perché tendenzialmente, dato che, se consideriamo che la marcatura deve essere fatta nel cono difensivo, quindi tra, tendenzialmente, poi a meno di qualche accorgimento, tra palla e porta, diciamo che più probabilmente l'uomo libero si trova in ampiezza o tra le linee, ma sicuramente in ampiezza è più probabile, perché è quello che più facilmente si tende a lasciare libero. E quindi, usare il terzo uomo per andare a prendere un'ampiezza, un uomo libero in ampiezza, è una soluzione sicuramente considerabile. Ovviamente poi dopo questa ampiezza bisogna vedere come può essere utile, però è evidente che questa è sicuramente un'utilità innegabile. Un'altra, e direi per noi oggi l'ultima utilità del terzo uomo è sicuramente che elude il posizionamento delle marcature, spesso e volentieri. Perché? Perché ovviamente il posizionamento delle marcature è tendenzialmente tenuto, come dicevo prima, tra palla e porta. Quindi questa cosa qui, il fatto di utilizzare un terzo uomo tante volte dà la possibilità di giocare su un uomo marcato per scaricare ad esempio in ampiezza su un uomo libero o ancora di non far comprendere qual è l'intenzione primaria di arrivare verso una giocata un po' più profonda utilizzando un uomo che magari è in ampiezza. Immaginate ad esempio di dover arrivare ad un uomo che si trova sul dischetto del rigore partendo dalla linea di centrocampo quindi lasciando stare per un attimo il fuorigioco. Ecco, è evidente che se facciamo capire l'intenzione di passare il pallone dal centro di centrocampo al dischetto del rigore la linea di passaggio viene ostruita e, guarda caso, il marcamento avviene proprio su quella linea. Se usiamo invece un terzo uomo che si trova un po' più in ampiezza rispetto al centro del campo è passare la palla a lui e lui velocemente poi potrà passare la palla a chi si trova sul dischetto del rigore capite bene che il marcatore non si trova nella condizione di comprendere subito che cosa sta succedendo e quindi si può eludere questa questa marcatura questa intenzione di marcatura. Ora il punto altri misunderstanding sono il come allenarlo perché tante volte vedo che gli allenatori usano delle esercitazioni richiamando il terzo uomo in maniera abbastanza analitica in maniera come dire abbastanza preconcettualizzata come se ci fosse uno schema da seguire quindi ad esempio la palla deve andare da A-B ma usiamo C ma il mister l'allenatore comanda che quella è la giocata secondo me per allenare il concetto ok non l'utilizzo del terzo uomo in partita ma il concetto del terzo uomo bisogna quantomeno creare delle esercitazioni che siano libere e abbastanza situazionali ok magari con una direzionalità anzi sicuramente con una direzionalità se no si perde il senso della conquista del campo o dell'ampiezza e però libero cioè nel senso che è il giocatore che deve sperimentare quella soluzione la squadra che nel collettivo deve sperimentare quella soluzione una delle situazioni che secondo me possono essere molto utili sono il cercare di ostruire il passaggio da una zona A a una zona B che sono distanti e tra A e B metterci un'altra zona che chiamiamo C che ha dei giocatori dei giocatori che in questo caso hanno il compito di ostruire la prima linea di passaggio ecco mettiamo dei jolly che possono liberarsi liberamente all'interno di queste tre zone di campo e chiediamo ai jolly di essere di aiuto per far passare la palla da A a B è evidente che questo può essere l'utilità della ricerca di un terzo uomo per andare dalla zona A alla zona B un'altra esercitazione che mi viene in mente che è facilmente spiegabile in questo in questo podcast è immaginate un rettangolo di campo in cui sui lati corti ci sono due jolly e la palla deve arrivare da un jolly all'altro ok e all'interno del rettangolo di campo che deve essere chiaramente abbastanza ampio e lungo in relazione ai numeri c'è una superiore un'inferiorità numerica di coloro che hanno la palla ok quindi che cosa succede che sicuramente ci sarà un giocatore che avanza almeno un giocatore che avanza che potrà sempre ostruire la linea di passaggio dal primo jolly verso qualcuno al centro e gli altri che devono muoversi velocemente per andare a giocare in avanti poi potenzialmente una palla in appoggio o indietro per andare dall'altra parte e qui c'è la ricerca del terzo uomo anche qui queste due esercitazioni se guardate sono abbastanza libere ma sono concettuali poi non è detto che questa cosa venga portata in partita le stesse cose dovrebbero essere ricercate se vogliamo allenare questo tipo di ricerca di terzo uomo dentro un concetto di partita in cui ci sono avversari in cui c'è una direzione in cui c'è un risultato ok e cercare di far comprendere quando c'è la possibilità che se c'è una linea di passaggio struita possiamo utilizzare questo concetto di terzo uomo per arrivare a quella persona tendenzialmente si fa cercando una giocata tra le linee come vi dicevo prima o una giocata in ampiezza quindi per conquistare spazio o per conquistare un uomo libero in ampiezza ecco io penso e spero di essere stato molto conciso volevo essere molto breve volevo semplicemente togliere dubbi o spero dare qualcosa di nuovo agli allenatori che ci ascoltano e che non conoscevano il significato di questo sviluppo offensivo di questo strumento offensivo di tattica offensiva e collettiva ma voglio fermarmi qui e voglio invitarvi ovviamente a vedere se esiste questo tipo di sviluppo nel campo nei ragazzi e nelle ragazze che hanno allenato ogni giorno perché magari qualche volta può essere utile inserirgli questo concetto inserirgli questo aiuto questa scoperta tattica in modo tale che gli si faciliti determinate giocate noi ci sentiamo giovedì prossimo un po' Grazie.